Il personale è molto limitato, quindi abbiamo chiesto a questore un intervento presso il Ministero in quanto nel mese di maggio-giugno ci saranno i trasferimenti a livello nazionale e questore ci ha assicurato che arriverà del personale. Anche su questo il questore è stato abbastanza rassicurante che in caso di esigenza verrà prelevato personale dagli uffici per essere impiegato su strada e questo per noi già è un grande risultato in quanto da tempo avevamo proposto al questore di prelevare anche personale dagli uffici e di poterlo impiegare su strada. Abbiamo un contratto economico bloccato dal 2009 e non si sblocca, quindi lei può immaginare con la vita che aumenta economica gli stipendi sempre più bassi e su questo noi stiamo riflettendo anche di poter fare una grossa manifestazione a Roma per sensibilizzare le istituzioni.